Direi che la formazione professionale è già ripartita, sono stati sottoscritti i primi 43 mandati di finanziamento, abbiamo fatto un accordo trilaterale con organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali, abbiamo posto al repertorio delle qualifiche riconosciute e riconoscibili a livello non solo regionale ma nazionale ed europeo, credo che anche la formazione professionale possa essere considerata una parte del puzzle formativo che ha recuperato identità e dimensione dopo circa tre anni o oltre tre anni in cui tanto gli operatori quanto gli allievi non avevano ricevuto risposte. Per quanto riguarda gli operatori ovviamente il riassorbimento sarà quello prioritario, sarà quello compatibile è quello compatibile con le risorse in campo per chi non potrà accedere al sistema, è chiaro che sono in gioco iniziative che abbiamo sollecitato al Ministero del Lavoro, cioè quella della costituzione di un tavolo che possa favorire i prepensionamenti e le tutele sociali che questo comparto storicamente ha acquisito. È chiaro che l'obiettivo del Governo è quello di una profonda revisione di una normativa della legge 2476, ormai troppo datata, troppo lontana dalle esigenze dei tempi, talché è qualcosa che subito dopo l'approvazione della legge sul diritto allo studio, il nostro assessorato insieme alla competente Commissione parlamentare porrà all'attenzione dell'Assemblea regionale.